Abruzzo verso il giallo, la bozza del report settimanale che domani verrà sottoposta alla valutazione della cabina di regia nazionale mostra segnali di miglioramento su tutti gli indicatori, lo ha ribadito anche nel pomeriggio il presidente della regione Marsiglio, dunque indice RT, pressione ospedaliera e anche focolai in calo. Ma sulla diffusione quotidiana del covid nella nostra regione abbiamo i dati, i nuovi dati del bollettino odierno, per questo abbiamo in collegamento Massimo Profeta, lo vedo e lo saluto. Buonasera Massimo. Grazie Paolo, buonasera a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Come dicevi da studio, segnali di miglioramento su tutti gli indicatori, scende l'indice RT, scende anche la pressione ospedaliera e diminuiscono i focolai. Ma scendiamo nel dettaglio, vediamo un po' quali sono, andiamo a scoprire i dati del bollettino covid Abruzzo di oggi, giovedì 22 aprile 2021. 233 nuovi casi di età compresa tra 1 e 90 anni, positivi con età inferiore ai 19 anni, sono 47, di cui 6 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2355 di età compresa tra 58 e 92 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno due casi sono riferiti però a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. Dicevamo dei positivi, ricordo 233 nuovi casi, 4.497 i tamponi molecolari eseguiti oggi, 2.600 i test antigenici. Il tasso di positività, come è noto, è calcolato proprio sulla somma tra i tamponi molecolari e i test antigenici è pari al 3,2%. 466 i pazienti, meno 8 rispetto a ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 46 meno 4 rispetto a ieri con due nuovi ricoveri in terapia intensiva. Gli altri 8.908, meno 82 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 17.437 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 40 rispetto a ieri. 17.942 in provincia di Chieti, più 84, 17.682 in provincia di Pescara, più 30, 16.263 in provincia di Teramo, più 105, 537 fuori regione, meno 18 e 184, meno 8 rispetto a ieri. Naturalmente per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza report, come ogni giorno comunicato dall'assessorato regionale alla sanità. Paolo. Sì, ecco Massimo, questa mattina tu ti sei occupato di scuole, sei stato a Pescara, anche perché il ritorno in presenza al 100% non sembra ancora praticabile, è così? Sì, è proprio così, perché da lunedì 26 aprile il ritorno degli studenti in presenza sarà del 60%, però noi siamo andati a visitare l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, dove appunto sono già pronti addirittura ad ospitare il 75% degli studenti in presenza, vedremo quello che succederà in questi giorni che restano da qui a lunedì. Quindi abbiamo approfittato, io e Diego Martelli, proprio per avvicinare la vicepreside Giuseppina Di Massimo. Con questa intervista io e Diego Martelli ti salutiamo, salutiamo i nostri telespettatori e dunque può partire l'intervista alla vicepreside dell'Istituto Alessandro Volta di Pescara, Giuseppina Di Massimo. Ormai ci siamo, dottoressa Di Massimo, come si sta organizzando l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta? Il nostro istituto in realtà è già organizzato, attende effettivamente le direttive ufficiali che arriveranno a breve. Noi con la nostra scuola siamo già pronti per accogliere in presenza il 75% della popolazione studentesca iscritta nel nostro istituto e in questo modo riusciamo a rispettare completamente le richieste del Comitato Tecnico Scientifico mantenendo le adeguate distanze tra gli studenti. È una modalità che abbiamo già sperimentato con il rientro a settembre e l'Istituto è stato predisposto per questa modalità, per cui siamo già pronti per il 75% in attesa di avere direttive dal prefetto. Siamo ufficiali, quindi non ci sono criticità? Al momento no, fino al 75% assolutamente siamo pronti. Senta, dottoressa, gli ingressi, se non vado errato, saranno scaglionati, anzi sono scaglionati? Sì, esattamente, sono già scaglionati. Noi abbiamo metà dei nostri studenti, in particolare le classi prime, le classi seconde e alcune classi terze che entrano alle ore 8 e terminano alle ore 13, mentre il resto delle terze, le quarte e le quinte entrano alle 9 e mezza e concludono alle 14 e 30. Quindi sono già scaglionati, probabilmente lo resteranno e quindi continueremo in questo modo aumentando solo il numero di studenti in presenza e mantenendo lo scaglionamento. Ma, ripeto, sempre se le direttive ufficiali ci chiederanno questo. Insomma, direttive ufficiali che arriveranno a breve perché ormai ci siamo, insomma a lunedì si partirà. Io li attendo a distanti. Diciamo che siamo già pronti un po' con qualcosa scritto su cui metteremo dei numeri, ma ci siamo già anticipati con le organizzazioni formali, ripeto, le aule sono pronte. Più che altro si tratta di scrivere ai nostri studenti come si dovranno organizzare, di comunicare quello che sarà questo modello già collaudato ma che va a ripetersi da lunedì, praticamente. I studenti in presenza al 100% volendo così allargare gli orizzonti sarebbe un problema in questo momento? Potremmo averli solo se gli orizzonti, come ha detto lei, si allargassero abbastanza. Cioè questo 75% è legato alle direttive del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi ove queste direttive venissero a cambiare, sì, potremmo essere anche al 100% ovviamente. Al momento no, non ci sono questi estremi.